Avviati gli scavi propedeutici all'ampliamento della casa di riposo Soteria di Seren del Grappa, il progetto redatto dall'architetto Antonio Bizzotto di Cartigliano consentirà di trovare posto a tre nuclei di degenza separati. L'obiettivo è terminare i lavori entro l'autunno 2021. In particolare al piano terra verrà localizzata la comunità alloggio dei disabili adulti munita di spazi autonomi rispetto alla casa di riposo. Al primo e al secondo piano invece verranno messi a disposizione 32 posti letto per gli anziani. Al termine dei lavori prenderà il via il secondo lotto relativo alla ristrutturazione del fabbricato esistente. Soddisfatte le autorità e gli addetti ai lavori presenti all'inaugurazione del cantiere, come testimoniano le parole della direttrice della struttura Alessandra Pilotto. Sono qui dal 2017, ho preso in mano una struttura con gravi difficoltà sul piano gestionale, economico e finanziario. Ne abbiamo fatto un gioiellino che riceve tantissime richieste di ingresso, riceve tanti complimenti, tante manifestazioni di vicinanza e soddisfazione per tutta la comunità di Seren del Grappa, per il consiglio di amministrazione, il sindaco e soprattutto ci rende orgogliosi anche nei confronti della Regione Veneto che ci ha individuati come anche beneficiari del fondo di rotazione che ha puntato in noi. Sul dettaglio del progetto si sofferma invece l'architetto Bizzotto. È una struttura a telaio, in cemento armato, con tamponamenti, con ottimi livelli di coibentazione, quindi si cerca di ottimizzare il contenimento dal punto di vista energetico. Il tempo utile che è dato all'impresa è di 490 giorni che ci porterebbero a Natale dell'anno prossimo. Ci siamo dati come obiettivo l'autunno dell'anno prossimo per completare i lavori.